Ecco la guida definitiva a Coinbase Wallet, uno dei mobile wallet più semplici da usare ma anche più completi. Si tratta di un wallet non custodial con supporto per migliaia di cripto, NFT e integrazione nativa con la DeFi. Direttamente dal wallet si può scambiare sui DEX, fare staking o addirittura spostare le proprie cripto da una chain all'altra tramite il bridge integrato. Inoltre possiede alcune funzioni inedite come il poter associare il proprio wallet con un nome utente on-chain fornito gratuitamente da Ethereum Name Service. Oppure inviare cripto a terzi anche che non hanno nessun wallet semplicemente mandandogli un link. Bene nel video di oggi vi spiegherò passo dopo passo come si usa il Coinbase Wallet e tutte le sue funzionalità. Sei pronto? Seguimi! E buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. Oggi continuiamo i nostri tutorial, le nostre super guide dettagliate sui wallet parlando di un wallet che ci siamo dimenticati evidentemente perché effettivamente è uno dei migliori mobile wallet e sto parlando del Coinbase Wallet. Come mai uno dei migliori per due motivi a mio parere. Il primo, la semplicità di utilizzo. Come vedrete è immediatissimo da capire e da utilizzare. E la seconda motivazione è la sua completezza. C'è un'enorme quantità di funzionalità, è compatibile con la maggior parte delle chain e delle coin più utilizzate. È direttamente integrato con la DeFi. All'interno del suo browser si potrà direttamente accedere alle varie DAP, fare tutte le operazioni, gli scambi sui DEX, i landing su Aave, i trade su GMX o sulle altre DAP appunto di DEX di Perpetual. Il tutto direttamente dal browser del wallet che si collega con il wallet in modo sicuro. Quindi è 10.000 volte più semplice che utilizzare ad esempio Metamask da browser. Il Coinbase Wallet, altra cosa importantissima prima di iniziare questa guida e questo tutorial, è una cosa completamente separata dall'exchange. Perché lo voglio sottolineare? Perché ho visto un po' di confusione, no? In tanti magari si chiedono, ma se un domani Coinbase chiude, ok, malauguratamente, cosa succede ai fondi che ho sul Coinbase Wallet? Ecco, allora il punto importante da capire è che il Coinbase Wallet è un wallet non custodial, quindi tu hai le tue 12 parole della seed phrase, tu conservi quelle 12 parole della seed phrase e nessuno ti tocca i tuoi fondi, ok? Quindi quei fondi non sono depositati su Coinbase, sono nel tuo wallet di cui tu hai la seed phrase. E anche se dovesse sparire il Coinbase Wallet dall'App Store, ad esempio, e domani non ce l'hai più sullo smartphone, tu ti scarichi un altro wallet a tua scelta, oppure compri un hardware wallet, inserisci quelle 12 parole e ti ripristini appunto il wallet sulla nuova piattaforma, quindi sul ledger, su quello che vuoi tu. E i fondi sono sempre stati lì, proprio perché sono di tua proprietà. Scusate se ho fatto questo piccolo preambolo, ma secondo me era importante proprio per comprendere il, cioè che cos'è un wallet e questo di fatto è un wallet, anche se c'è scritto Coinbase, significa che sì, l'azienda che c'è dietro è Coinbase, ed è stato sviluppato da loro, ma non ha niente a che fare appunto con l'exchange. È un wallet, non custodia tutti gli effetti. Prima di iniziare vi ricordo che se vi piacciono, vi gasano, insomma, questi tutorial, queste superguide, lasciate un bel like a questo video così me lo fate capire, io ne farò tanti, tanti altri su tutto ciò che mi dite, che vorreste vedere, capire e utilizzate. Noi ci andiamo a fare la guida. Altra cosa importante, iscrivetevi al canale, se volete rimanere sempre sul pezzo al 100% con il mondo cripto, con contenuti di approfondimento, analisi, ricerca, guide, tutto, veramente tutto quello che c'è da sapere. Per quanto riguarda invece il mondo Coinbase, io vi ricordo che Coinbase ha una community italiana ufficiale, si chiama Coinbase Italia Official su Telegram, dove ci sono gli ambassador che sono parte appunto del team Coinbase. Il programma ambassador è stato lanciato tra l'altro proprio in Italia, come progetto pilota da Coinbase. Si tratta di un gruppo di persone appunto che costruisce una community e dà una mano agli utenti al fine di risolvergli problemi, aiutarli se hanno difficoltà, eccetera, eccetera. Quindi per qualsiasi difficoltà che avete sul mondo Coinbase, non solo Wallet, anche Exchange e quant'altro, io ovviamente non posso che consigliarvi di chiedere a loro. Vi lascio il link in descrizione al loro gruppo Telegram. Detto questo, amici, partiamo con la nostra guida. Io ho l'app per iOS, sono utente Apple, ma l'app è disponibile ovviamente anche per Android, dal Google Play Store. Una volta scaricata, voi, e aperta, vedrete questa schermata. Io l'ho inizializzata, proprio per farvi una guida che parte assolutamente da zero, e questa è la schermata, la prima schermata di apertura, che vi dice, crea un nuovo portafoglio, oppure ho già un portafoglio. Cosa vuol dire? Se avete già un Wallet che volete ripristinare qui sopra, quindi volete utilizzare i fondi che avete su quel Wallet anche da qua, voi cliccate, ho già un portafoglio, e lui vi chiede di inserire la vostra Seed Phrase. Ok? Quindi voi scrivete la vostra Seed Phrase e la importate all'interno del Coinbase Wallet. Qui vi dice anche usa iCloud, perché come vedremo tra poco vi permette di fare il backup della Seed Phrase su iCloud, cosa che io sconsiglio vivamente, e tra poco vi spiegherò anche il perché. Se invece vogliamo creare un portafoglio vergine, quindi uno nuovo, clicchiamo crea un nuovo portafoglio. Eccoci qua, vedete che, non so se ci avete fatto caso, ma già identificato con il Face ID, perché se utilizzate la sicurezza biometrica sul vostro smartphone, lui ve la associa già al Wallet, cioè per fare il login. Ogni volta che voi aprite l'app, vi viene richiesto di superare il Face ID o il Touch ID, quello che avete, per poter accedere, e lo stesso per firmare transazioni. Quindi, vedete, ecco adesso, lui mi ha creato già in realtà il Wallet, ma ha creato la Seed Phrase, e qui mi dice, richiedi il mio nome utente. Tra poco vi spiego che cos'è, altrimenti forse più tardi. Allora, il nome utente, in realtà, beh, facciamolo subito, è facoltativo, non cambia nulla se lo richiedete o no, perché è gratuito, tra l'altro, ma richiederlo, diciamo, semplifica la vita tra utenti Coinbase Wallet. Cosa vuol dire? Guardate, il nome utente non è altro che un nome utente che decidete voi, quindi ad esempio, non lo so, vediamo, The Crypto Gateway sarà sicuramente già preso, scommetto, facciamo 000, eccolo, e come vedete, questo nome utente, intanto mi dice se è disponibile o no, perché è un nome univoco, può averlo una persona sola, e se io scelgo questo nome utente, altri utenti Coinbase Wallet, che vogliono inviarmi dei fondi, anziché dover far copia e incolla del mio address, o inquadrare il QR code, possono scrivere il mio nome utente, e quindi fanno invia fondi, anziché appunto incollare l'address, scrivono The Crypto Gateway 000, e inviano a me, ok? Quindi, questo nome utente, nel momento in cui io accetto le condizioni e lo richiedo, viene associato all'wallet che sto creando, ok? Quindi, che non è, attenzione, solo un wallet Ethereum, è un wallet multi coin, tra poco vedremo quali sono le coin supportate, quindi, non vale solo per l'invio di Ethereum o token, ma per tutte le coin supportate dal Coinbase Wallet, però vale solo all'interno dell'utenza Coinbase Wallet, questo è importante da capire. Come vedete, è un servizio offerto da ENS, sono quelli di Ethereum Name Service, ovvero quelli dei domini .eth. Il dominio .eth è un dominio universale Ethereum, ok? Quindi è una cosa un po' diversa, infatti c'è da fare il claim, costa e tutto quanto. Mentre questi domini .cb.id, vedete che il dominio finale è .cb.id, che sta per Coinbase ID, è un nome utente interno all'ecosistema Coinbase Wallet, come vi dicevo. È gratuito, ma non è universale, ok? Quindi, noi facciamo pure il claim, richiediamolo, ed ecco che l'abbiamo accettato, ed è diventato nostro. Portafoglio creato. Se io non avessi scelto il nome utente, qua in alto ci sarebbe stato scritto portafoglio 1, cioè non cambia nulla, e avrei potuto richiederlo in seguito. Quindi non preoccupatevi, se non lo volete richiedere subito, potete sempre richiederlo in un secondo momento, ok? E associarlo comunque al vostro wallet. Una volta creato il mio wallet, come vedete, siamo catapultati in questa schermata, e i più attenti di voi avranno notato una cosa, che non ci è ancora stata mostrata la seed phrase. E uno dice, ma come mai? Nel senso, e la seed phrase dov'è? Di solito, non so chi di voi, ad esempio, ha inizializzato Ledger, o un altro wallet, di solito la prima cosa che vi fa fare, è la trascrizione della seed phrase, e la sua conferma. Ecco, qua invece no. Vi butta subito all'interno del wallet, però vedete che in basso a destra, su impostazioni, c'è un puntino rosso. Ecco, io vi raccomando, come prima, primissima cosa da fare, è andare a fare il backup della seed phrase, se avete intenzione di utilizzare seriamente questo wallet. Perché? Altrimenti, se per disgrazia facciamo il logout, cancelliamo l'app, eccetera, e chiaramente non abbiamo la seed phrase, per fare il ripristino del portato. portafoglio, quindi prima di caricare fondi, o di fare qualsiasi operazione, andate, ve ne prego, a fare il backup. Si fa così. Tocchiamo impostazioni in basso a destra, e come vedete, c'è già il puntino rosso sotto sicurezza, noi andiamo su sicurezza, e vedete che su portafoglio 1 backup, c'è scritto backup non eseguito. Andiamolo a eseguire, quindi selezioniamo qui, ci viene fatto il controllo col face ID, perché stiamo entrando in una sezione sensibile, e qua tra l'altro vedete che ci manda addirittura la notifica, abbiamo rilevato una richiesta di visualizzazione della tua recovery phrase o chiave privata, quindi se ne accorge e te lo dice. Concedilo solo se effettivamente hai intenzione di farlo, noi facciamo allow, ed ecco qua vedete la schermata del backup della seed phrase. Qua sotto ci sono le 12 parole, sono oscurate, sono blurrate, se clicco sull'occhietto me le fa vedere, altrimenti posso copiarle negli appunti, anche senza mostrarle in chiaro. Quindi, io cosa devo fare? Guardarle con l'occhietto, scrivermele offline, sapete, insomma, guardate il corso di sicurezza, se non l'avete ancora fatto, abbiamo parlato di come conservare correttamente una seed phrase, come gestire il tutto, e una volta fatto, diciamo, esegui il backup manualmente, per dirgli che l'abbiamo fatto. Esegui il backup con iCloud, cosa fa? Ti carica su iCloud, la seed phrase crittografata, quindi non è che ti carica le parole in chiaro, te la carica crittografata. Tuttavia, io lo sconsiglio vivamente, perché se uno vi buca iCloud, vi buca il cloud, vi scarica la seed phrase crittografata, e fa brute forcing, prima o poi ve la riesce a decifrare, chiaramente vi frega tutto, ok? Quindi una delle regole proprio di sicurezza, più importanti, è di non caricare mai online, la propria seed phrase, ok? Mi raccomando. Quindi, backup assolutamente manuale, ho salvato la mia frase di recupero, lui si fida di noi, mi raccomando, facciamolo per davvero, ed ecco che, ora, sì che possiamo iniziare a usarlo. Abbiamo il backup della seed phrase, se facciamo il logout e cancelliamo l'app, se ci esplode il telefono, eccetera, noi possiamo comunque recuperare il nostro wallet, tramite quelle 12 parole, ok? E quindi, niente, questa è la prima cosa da fare. Adesso andiamo a vedere, un po' la, le impostazioni iniziali del wallet, prima di andare dritti all'utilizzo, cerchiamo di capire, no, come, come si, com'è configurato, come funziona, e quali sono le sue impostazioni, che sono sempre qua, vedete, in basso a destra. Noi, da qui, che cosa possiamo fare? Allora, innanzitutto, selezionando il portafogli, possiamo, di nuovo, vedere la nostra frase di recupero, idem come prima, no? Quindi ci fa vedere la seed phrase. DAP connesse, questo ci fa vedere, se ci sono connessioni DAP, questo lo vedremo tra poco, quando andiamo a utilizzare, a provare, ad esempio, a utilizzare delle DAP, e vedremo che, poi, una volta che ci colleghiamo con uniswap, ad esempio, colleghiamo il wallet a uniswap, qui ce lo mostrerà, ok? E la cosa bella è che da qui potremo anche disconnettere, quindi, lato sicurezza, molto bene. Esporta gli indirizzi pubblici, ci va a esportare i nostri address, se ci serve, ad esempio, per la rendicontazione fiscale, o cose del genere, mostra la chiave privata, di nuovo, ci mostra la chiave privata, per l'appunto, nascondi asset, è carino, se noi abbiamo, ad esempio, qualche token, inutile, non so, ad esempio, Kik token, o tutti quei token, che vengono air droppati, ma sono inutili, e non li vogliamo, vedere, ecco, da qua, noi possiamo andare a nascondere, qualche asset, che si vede da qui, e non vederlo più, ok? Togliocelo dai piedi. Autorizzazioni di accesso al token, ecco, anche questo è importantissimo, non so, se avete visto, di nuovo, i nostri ultimi video, sulla sicurezza, dove abbiamo parlato, dell'approvazione degli smart contract, cioè, se voi utilizzate, ad esempio, uniswap, prima di fare lo swap, vi chiede, vuoi autorizzare lo smart contract, a spendere i tuoi token, e ovviamente, tu lo devi autorizzare, perché altrimenti, non funziona lo swap, ecco, qua, ti fa vedere, tutti gli smart contract, che hai autorizzato, e ti permette di annullare le autorizzazioni, questa è una funzionalità utilissima, lato sicurezza, per controllare, sempre, le autorizzazioni date, così, appunto, possiamo accertarci, che non ci sia nulla di strano, ed eventualmente, annullarle, molto bella, come funzionalità, colore, pura estetica, nascondi indirizzo, modalità privacy, quindi, per nascondere l'address, nel momento in cui, non lo so, volete, non volete farlo vedere, a chi vi sta guardando il telefono, per qualche ragione, vabbè, queste sono le impostazioni, del, del profi, dell'account, del portafogli, vedete che sotto, c'è gestisci tutti i portafogli, in realtà, da qua, si può, anche dal menu principale, aggiungere, vedete, più di un portafoglio, cioè, noi adesso ne abbiamo creato uno, che è questo qua, The Crypto Gateway 000 CBID, però, se vogliamo, possiamo crearne un altro, in parallelo, e poi, dal menu a tendina, andare a selezionarne uno, oppure l'altro, ogni wallet, è associato a una seed phrase, mi raccomando, quindi, non si mischiano insieme, cioè, se volete, un'unica gestione, un unico wallet, un'unica seed phrase, non statene a creare vari, non ha senso, crearne vari, non lo so, cioè, non so per quale motivo, se volete, appunto, più seed phrase, che gestiscono più portafogli, e, e poi potete switchare, da uno all'altro, qua, però gli asset, ricordatevi, che non sono in comune, cioè, l'asset su un portafoglio, con la seed phrase A, è completamente dissociato, dall'asset, dagli asset, nel portafoglio, con la seed phrase B, ok, e, quindi, si può crearne più in parallelo, un, a, un, un account, un portafoglio, a associate più coin, perché, guardate, se io clicco ricevi, come vedete, lui mi mostra bitcoin, posso ricevere bitcoin, ethereum, e tutto il mondo ethereum, vedete, rc20, e, tutto il mondo e vm, in realtà, vedete, c'è anche base avalanche, bsc e polygon, e poi, altri asset, quindi, abbiamo evm, bitcoin, dogecoin, litecoin e solana, quindi, tutte le principali, diciamo, le abbiamo compatibili, e, e qua, vedete, ecco, se voi volete ricevere dei fondi, adesso poi magari andiamo a fare proprio tutto il processo, però da qua, vi da anche l'address di ricezione, come vi dicevo, ecco, vedete, condividi nome utente, per ricevere direttamente, cripto, quindi, se noi andiamo a condividere, questo nome utente, con altri utenti, con altri wallet, che supportano il coinbase ID, quindi un altro coinbase wallet, o appunto altri wallet, che supportano il coinbase ID, chi ci invia i fondi, inserisce il nome utente, e, viene risolto il nostro address, direttamente da questo dominio, quel dominio lì, appunto, risolve l'address, quindi, un wallet, the crypto gateway 000, è associato a, tutta una serie di address, che supportano tutte queste coin, ok, se ne crea un altro, è un altro wallet in parallelo, che è di nuovo associato a tutte queste coin, ma in maniera disgiunta dal primo, questo giusto per darvi, un po' di chiarezza, su questa cosa, tornando alle nostre impostazioni, ecco, vedete, qua, abbiamo la voce reti, Cosa vuol dire reti? Allora, queste sono tutte le reti EVM, quindi quelle che abbiamo visto, per capirci qua, indirizzo Ethereum, supportate nativamente, Ethereum, Arbitrum, Avalanche Base, BNB Smart Chain, Phantom, Gnosis, Optimism, e Polygon, noi, se vogliamo, possiamo aggiungerne altre, no? Vedete, esattamente come le si aggiunge su Metamask, quindi voi potete aggiungere una nuova rete, nome, RPC, ID, eccetera, eccetera, e poi la aggiungete e ve la trovate qua sotto, e poi quindi potete ricevere asset anche su quella rete lì. Ci sono anche le testnet, come vedete, e al fine di visualizzare, se volete fare delle prove, no? Quindi ricevere degli asset in testnet, e visualizzarli qua, di default non ve li visualizza, dalle impostazioni, devo ricordarmi dove, adesso ci arrivere, forse dati visualizzati, esatto, qua in fondo vedete c'è anche mostra i saldi testnet, voi lo attivate, e qua vi farà vedere, adesso non ho nulla, ma se avete qualcosa vi fa vedere i token che avete anche in testnet, ok? Quindi, questo per il discorso delle reti, sicurezza, abbiamo visto che da qua c'è il backup della seed phrase, che noi ovviamente abbiamo già fatto, poi che cosa abbiamo? Metodo di blocco, vedete Face ID, richiedi lo sblocco quando, quindi vi chiede il Face ID quando, apertura dell'app, e esecuzione di una transazione, e ovviamente almeno una delle due deve essere selezionata, altrimenti non vi chiederebbe mai, la verifica di sicurezza, e protezione del cambiamento, significa che se i dati biometrici cambiano, quindi se domani cambiate il Face ID sull'iPhone, vi chiede la seed phrase, ok? Giusto per essere certo che non è avvenuto un furto o qualcosa del genere. Questo è lato sicurezza. Dati visualizzati, allora, qui c'è modalità semplice, io non l'ho mai provata, però, dunque, vai, probabilmente, adesso magari la proviamo alla fine, probabilmente vi toglie qualche funzionalità, ve lo rende ancora più semplice, ma secondo me è già molto semplice così, aspetto scuro, chiaro, automatico, quindi dark mode o light mode, valuta, euro, potete scegliere anche il dollaro, se vi piace di più visualizzare il bilancio in dollari, protezione dati personali, modalità privacy, quindi nasconde il saldo, nascondi i piccoli saldi inferiori a un dollaro, per evitare di avere la cosiddetta dust, la polvere, all'interno degli asset, e mostra i saldi testnet, l'abbiamo detto prima. Poi, connetti a Coinbase, allora ecco, noi prima all'inizio abbiamo detto, sono due cose diverse, il Coinbase Wallet e Coinbase Exchange, anche se voi collegate il wallet all'exchange, non vuol dire che Coinbase ha accesso ai vostri fondi, e ve li frega in qualche modo, ma vuol dire che tu praticamente, ti vai ad acquistare i fondi su Coinbase, e poi li invii qua, quindi se volete comprare fondi direttamente dal Coinbase Wallet, potete farlo collegando il vostro account Coinbase, in questo modo, lato privacy ovviamente, sappiate che state facendo un compromesso, perché, insomma, diventa in qualche modo legato al vostro KYC, perché sull'account Coinbase si fa il KYC, e però potete acquistare i fondi da Coinbase, utilizzando l'interfaccia del wallet, e trasferirli automaticamente al wallet, quindi comprate su Coinbase, e ve li trovate poi sul wallet non custodial, questo è anche un modo carino, per chi vuole rimanere nell'ecosistema Coinbase, e ad esempio detenere dei fondi, non sull'exchange, appunto li porta fuori sul Coinbase Wallet, e per farlo c'è da fare l'abbinamento, quindi se voi lo fate, lui vi chiede l'autorizzazione sul vostro account Coinbase, gliela date, e l'associazione è fatta, va fatta una volta sola, e poi ripeto, potete comprare, vedete anche da qua c'è acquista, c'è il pulsante acquista, e qui non sono ancora collegato con Coinbase, ma altrimenti vi fa acquistare direttamente dall'account Coinbase in euro, e poi ve li ritrovate sul saldo del wallet, notifiche per le impostazioni delle notifiche, c'è anche il referral, che cos'è boh, anche qua c'è da collegare Coinbase, e basta, queste sono un po' tutte le impostazioni, ve le ho fatte vedere all'inizio, perché vi fa capire un po' anche il funzionamento del wallet, secondo me, prima di iniziare a depositare, prelevare fondi, è importante capire innanzitutto le impostazioni di sicurezza, il discorso della connessione a Coinbase, se si vuole acquistare, le reti visualizzabili, l'app, il parallelo di più portafogli, ecco adesso che abbiamo tutto chiaro questo, possiamo andare alle funzionalità, diciamo, di base, ovvero, ricezione e invio, come si fa? allora, beh, io qua non ho nulla, quindi ho acquisto tramite Coinbase, come abbiamo visto, oppure ricevo, ricevi, vedete, qua vi fa scegliere dove, indirizzo Ethereum, Bitcoin o altri asset, se voglio ricevere su Avalanche, ovviamente invierò l'indirizzo Ethereum, perché Avalanche è una chain EWM, è la C-chain di Avalanche, ovviamente, se voglio ricevere Bitcoin, copierò l'indirizzo Bitcoin, se voglio ricevere Solana, copierò, vedete, l'indirizzo Solana, e ognuno ha la sua chain, ok? E lo vado a incollare laddove faccio l'invio, sull'exchange o su Metamask, o su altri wallet da cui invio, aspetto che mi arrivano, e poi arriverà la mia transazione qua sotto, ok? Una volta che mi è arrivata la transazione qua sotto, dai, facciamo un esempio, aspettate un secondo che mi invio qualcosina per gioco, ecco fatto, allora mi sono inviato ben un Matic, attenzione qua si parla di fondi folli, e come vedete io lo trovo da transazioni, qua vedete che c'è la transazione di ricezione di un Matic, e nei miei asset, come vi dicevo adesso, se lo voglio nascondere, vedete da qua, seleziono il mio wallet, faccio nascondi asset, e nascondo i Matic, tac, non c'è più niente, ok? questo giusto per farvi vedere meglio la funzionalità che vi ho spiegato prima. Allora, adesso io posso selezionare, vedete Matic, mi fa vedere tutto l'andamento, quindi per ogni asset, vedete che posso andare a vedere un po' tutta la sua panoramica, e l'andamento anche con il grafico sulla rete Polygon, mi fa vedere, qua ci sono alcune informazioni e azioni di base, quindi acquista, di nuovo tramite Coinbase, cambia, questo me lo fa fare tramite un DEX, vedete, faccio cambia ora, lui mi dice in che cosa lo voglio cambiare, supponiamo USDC, vedete che lui mi spiega, mi fa il tasso di cambio migliore che trova, ok? E trova il miglior prezzo, mi va a scansionare i vari DEX, ed ecco che il miglior prezzo che ha trovato è questo, con insomma tolleranza allo slippage del 3%, lui probabilmente ha un suo aggregatore di DEX, che vi permette di andare a fare lo scambio, quindi ottimizzando per l'appunto il prezzo di cambio, ok? E bene, qua giusto per farvelo vedere, Bridge, questo per brigiarlo, trasferimento ponte lo chiama, però permette di brigiare ad esempio da Polygon a Ethereum, in questo caso, probabilmente in base al network che si sceglie, ci sono disponibili varie reti, immagino che, beh adesso non ce l'ho, ma se scegliessi Ethereum ce le avrei tutte, Max, vedete, qui mi dice l'importo è troppo basso, perché ci sono le fee di Ethereum, che ovviamente sono alte, visto che c'è di mezzo Ethereum, quindi dice almeno 11,36 euro, perché c'è da coprire le gas fee, però carino che è anche il bridge integrato, ok? Quindi si può brigiare da una chain EVM, mi pare di aver visto, perché ad esempio su queste Solana non l'ho vista, quindi sono bridge interni al mondo EVM, da una chain all'altra direttamente da qua, oppure c'è invia o ricevi, e guardate che figata, c'è invia tramite link, è un'operazione pensata per inviare delle cripto, direttamente come dice la parola stessa, la frase stessa con un link, ovvero, ve lo faccio vedere che si capisce meglio di mille parole, io dico quanto voglio inviare, ad esempio tutto, no? Tutto il mio matic, faccio avanti, e vedete che qua mi dice, creeremo un link web condivisibile, che il tuo destinatario potrà aprire, per richiedere la cripto, quindi nel momento in cui io creo questo link, cosa succede? Succede che chiunque abbia questo link, può riscuotere, quindi attenzione, e di fatto basta avere il link, cioè io invio questo link a un mio amico, che non ha un wallet né niente, ovviamente dal link gli verrà detto, crea un Coinbase Wallet, e da lì riscuoterà la transazione, ok? Quindi è un modo, diciamo, per semplificare l'invio di una transazione, ok? Io chiaramente vi sconsiglio di utilizzarlo, per inviare grosse quantità di fondi, per la semplice ragione di sicurezza, che un link magari gira nelle mani sbagliate, prima della persona giusta, vi viene liccato e così via, dal vostro, se non avete dispositivo in sicurezza è tutto, però per mandare, non lo so, i due euro, per fare la colletta, per prendere, non lo so, da mangiare o da bere, ci sta nel senso, crei il link, lo invii, e sei a posto, no? Dopo, nella schermata successiva, si può inviare i propri numeri di telefono, si può inviare per email, e chi lo riceve, lo clicca, e riscuote la transazione, no? Molto carino per, orange pillare qualcuno, in modo semplice, ok? E questo è un po' quello che vi dicevo all'inizio, Coinbase Wallet strizza molto l'occhio, alla semplicità. Al di là di questo, vabbè, qui abbiamo tutte le informazioni sulla coin, e basta, direi, abbiamo visto un po' tutto, lato ricezione, quindi invece, come si fa a inviare? Adesso anche qua, in realtà, vedete che mi sono comparse, tutta una serie di opzioni, che sono le stesse che abbiamo visto qui con Matic, no? Acquista, cambia, bridge, invia, ricevi. Invia, ovviamente, ha comparso, quindi io posso inviare i miei Matic, avanti, mi viene chiesto di inserire un address, vedete, indirizzo, ENS, quindi il dominio punto ETH, oppure CBID, quindi se un vostro amico ha un CBID, e gli volete inviare dei fondi, scrivete il CBID, anziché inquadrare l'indirizzo, o altrimenti inquadrate ovviamente l'indirizzo, poi si può salvare una rubrica, degli indirizzi preferiti, ed è già lì, altrimenti di nuovo vi dice invia tramite link, e vi rimanda a quest'altra possibilità, sempre con l'ammontare della transazione che gli abbiamo detto prima, ok? Quindi queste sono le modalità di invio, tra l'altro di nuovo ho visto, dov'è ottieni un link, c'è anche qua in alto, e importo, ah ok bene, ti dice importo inferiore a 385,19 euro, io vi avevo detto prima di non usare importi troppo alti, ma ve lo impedisce proprio, probabilmente per ragioni di sicurezza, e quindi niente, di nuovo, tac, ottieni un link, e vedete che ricapitiamo qui, no? Quindi, queste sono le varie modalità di invio, e, poi che altro abbiamo? Beh, lato invio deposito direi che abbiamo visto tutto, e, andiamo a vedere, vedete qua abbiamo anche NFT e DeFi, in realtà, no? io credo che qua ci faccia vedere, no? Di default, no? Fa vedere anche Ethereum, eeeh, beh, qui ci fa vedere le varie operazioni che si può fare con la DeFi, NFT, probabilmente c'è una vetrina di, di NFT vari, ma, ah no, non è vero, questi sono gli NFT che noi possediamo, che sono tutti scam, tra l'altro, ecco, ne approfitto per ricordarvi di fare attenzione agli scam, guardate che roba, no? Qui ad esempio mi dice che ho, ricevuto un airdrop, questo sarebbe un NFT che qualcuno mi ha inviato, e vedete me l'hanno inviato a me su rete Polygon, probabilmente appena hanno visto che mi sono inviato una transazione, mi ha mandato sto NFT scam, che ho scritto claim a 30.000 USDT.CC, che ovviamente è un sito scam, non fatelo, ok? Quando vedete questi airdrop, anche questo, hai ricevuto un voucher da 1000 USDC, figurati, non toccateli, non vi venga in mente di andare su quei siti lì e collegare il vostro wallet, se no vi viene bellamente prosciugato. Tornando a noi, allora, andiamo a vedere, beh, transazioni le abbiamo viste, andiamo a vedere il browser DAP, vedete, qua vi collega al mondo Web3, quindi come funziona? Allora, funziona che qui c'è un elenco di DAP, quindi se volete andare a scambiare su DEX Uniswap, allora abbiamo visto che per scambiare si può fare anche direttamente da qua, quindi da MATIC a USDT, abbiamo visto che lui ci va a trovare a scansionare i vari DEX, per trovarci il miglior prezzo, ok? Però se noi vogliamo utilizzare direttamente Uniswap, noi andiamo qui, selezioniamo Uniswap, e vedete che il browser ci rimanda su Uniswap, facciamo collega portafoglio, tac, ce l'ha riconosciuto, e noi automaticamente, vedete, siamo connessi a Uniswap, noi qui adesso andiamo a mettere la chain Polygon, e vedete che ci fa vedere che abbiamo un MATIC, quindi noi possiamo andare a convertire da qua, recupero miglior prezzo, e possiamo andare a fare lo scambio, per titolo di esempio facciamolo pure, guardate, confermiamo uno scambio di un MATIC 0,99, che c'è da pagare un po' di fee, e con 0,83 USDC, conferma lo scambio, vedete, anteprima transazione, mi fa vedere tutto, confermiamo, face ID, scambio inviato, tac, ok, quindi, se torno su asset, vedete che adesso ho dei belli USDC, su rete Polygon, ok, quindi transazioni, abbiamo la ricezione iniziale, e lo scambio, da Polygon a USDC, che abbiamo fatto tramite Uniswap, ora dal browser, vedete, nella cronologia, mi ritrovo Uniswap, quindi se lo voglio rivisitare, lo posso rivisitare, tac, noi adesso riusciamo pure, qui posso fare altre operazioni, non ci sono tutte le DAP, se notate, se ad esempio, io voglio utilizzare, non lo so, GMX, per fare trading sui perpetual, io qua cerco GMX, GMX, eccolo, lui vedete che ha già un motore di ricerca, di DAP integrato, bene, vedete, ecco qua, GMX, collega, Coinbase Wallet, tac, collegato subito, vedete a che velocità, trade, ed ecco qua, le copie di scambio, no, se io voglio andare a fare trading, su varie, appunto, copie di scambio, vedete che lo posso, tranquillamente fare, ovviamente, su rete Arbitrum, e quindi servono dei fondi depositati su rete Arbitrum, e questo è il funzionamento del browser, ecco, vedete che anche qua abbiamo, adesso nella cronologia, tutto quanto, questo è per ciò che riguarda la DeFi, c'è anche il liquid staking, per fare staking, se volete, di Ethereum, eccolo qua, vedete che c'è tutto, insomma, tutta la sua interfaccia, e questo per dire che si può usare la DeFi, direttamente da lì, ultime due cose, allora, beh, gli NFT, ovviamente, qua vi fa vedere quelli che avete, questi due sono scam, e se ve ne mandate altri, comunque li vedete qui, sul browser, chiaramente, potete andare a utilizzare, non lo so, OpenSea, ad esempio, tac, vi collegate, fate le vostre compravendite, login, vedete, tac, e fate tutte le compravendite che volete, bene, sì, ok, capito, e, direttamente collegato al wallet, quindi gli NFT li gestite, esattamente come li gestireste da Metamask, ma all'interno del vostro Coinbase Wallet, per vederli, li vedete invece, come sempre qua, dalla schermata asset, la schermata esplora, vi fa vedere un po' le tendenze, quindi, delle varie coin, potete creare delle watchlist, vi fa vedere anche gli NFT, insomma, è un po' un explorer, una sorta di pagina iniziale del mercato, ultima cosa, molto carina, dal mio punto di vista, guardate, la messaggistica, come funziona? funziona che, in sostanza, lui prende il vostro Coinbase ID, oppure address, e lo utilizza come endpoint, no? Quindi voi potete inviare messaggi, vedete, criptografati end to end, tra l'altro, a chiunque, quindi, se voi prendete il mio address, o il Coinbase ID, voi da qua, vedete, inserisci l'indirizzo, me lo inserite, mi scrivete quello che volete, no? è un servizio di messaggistica, on-chain, tra virgolette, perché in realtà viene utilizzato solo per risolvere l'endpoint, però è criptografato, privato, e quant'altro, e direttamente integrato in Coinbase Wallet. Quindi, come vedete, è un wallet estremamente completo, wallet non custodia la tutti gli effetti, vi permette di fare qualsiasi tipologia di operazione, in DeFi, sul mondo EVM, soprattutto è completissimo, per il mondo EVM, è veramente completo a 360 gradi, e è ideale proprio per chi cerca funzionalità di questo tipo, quindi da utilizzare attivamente. Se siete utenti di, ad esempio, soprattutto ecosistema, non so, Solana, mi viene da pensare, forse non è proprio ottimizzato, ecco, per Solana, nel senso, supporta chiaramente gli asset e tutto quanto, però, magari, non tutte le DAP del caso, perché se ad esempio nel browser cerco, che ne so, Marinad, in realtà c'è anche Marinad, vediamo, accetta, ok, collega, non è vero, mi rimangio tutto quello che ho detto, confermo, confermo, quindi in realtà anche per ciò che è nativo Solana, vediamo, Ethereum, base, eccetera, 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 no, però vedete che non mi permette di collegare la rete Solana, ok, quindi, no, non è vero, 5J è l'address Solana, qui mi dice Ethereum, però, però sono su Sol, sono su Sol, esatto, quindi, no, mi rimangio tutto, mi rimangio tutto, va benissimo anche per usare le DAP su Solana, e, infine, ecco, ci sono anche le quest, per ottenere dei piccoli premi in, in cripto, facendo delle, delle missioncine, insomma, che anche queste si aggiornano di volta in volta, dateci un'occhiata, per avere qualche cripto a scrocco, e, amici, questo è quanto, io spero che abbiate apprezzato questa panoramica, su un wallet, appunto, molto completo, molto interessante, se vi sono rimasti dubbi o domande, fatemelo sapere, nei commenti, che così vi rispondo, e, ve li chiarisco, oppure, ovviamente, ci sono i ragazzi di Coinbase Italia, per rispondere a qualsiasi vostro dubbio, io vi faccio un carissimo saluto, vi ringrazio di aver visto il mio contenuto, e alla prossima.